Ragazzi guardate là, guardate a che distanza inizia a schiarire il mare Oggi sono venuto al mare a prendere un po' d'aria e ho portato le mie due canne da pesca Sono a pesca da qualche ora e non ho visto niente In queste situazioni, quando il mare inizia a schiarire a 500 metri, vorrei avere con me un drone Perché con la canna da pesca riesco a malapena arrivare a 100-150 metri Proprio nella migliore delle condizioni e non è questa perché tira un po' di maestrale Ma con un drone la cosa cambierebbe drasticamente Riuscire a mettere l'esca là dove il mare è più chiaro potrebbe fare la differenza